questa è la legge e cominciamo con un applauso per mirto 5 5 che si è abbonato per primo ciao ragazzi ciao mirto 5 5 5 mirto e qualche cinque diciamo qualcuno mirto crozio mirto comunque cioè qualche altro 5 potevi metterlo perché guarda che sono gratis è limitativo te ne potevi mettere qualcun altro sono gratis beh ragazzi allora oggi rispondiamo alle vostre domande dopodiché vi debbiamo dare una notizia molto importante poi la ripeteremo nel corso della trasmissione perché se no magari chi si collega dopo non lo sa mercoledì la puntata di giovedì la anticipiamo a mercoledì e dopodiché per quel che rimane del mese di luglio e per il mese di agosto cercheremo di fare puntate monosettimanali da due ore in modo tale da anche monosillabe se ci riusciamo una una sillaba per tutta quanta la trasmissione no perché ragazzi è chiaro che dobbiamo abbiamo turni con le famiglie vacanze e quindi chiaramente poi nella costa calabrese è difficile trovare un angolo dove prenda la linea e dovremo arrabbattarci però a settembre torneremo ancora più aggressivi di prima quindi per luglio agosto vi terremo ugualmente compagnia risponderemo sempre alle vostre domande cercheremo di fare più puntate condensate c'è più tempo da dedicarvi magari in me con minore frequenza detto ciò vogliamo leggere le vostre domande e cominciamo proprio da mirto perché il nuovo arrivato che di come dici tu in a gamba a gamba desa tesissima ci ha avvocato secondo lei di dl zanna timbavaglia o cimbavaglia o ma proprio di dl zanna oggi ho sentito la predica di un sacerdote siciliano che era tristissima cioè una cosa terrificante perché diceva io quel di al dl zanna mi impedisce di parlare da oggi in poi perché la bibbia la dovrete bruciare perché la bibbia dice che luo e dio li ha fatti uomo e donna quindi siccome la bibbia dice così di dl zanna ci imporrà di bruciare la bibbia la tesi assurda un pochino oltre anzi sì sì no no io non credo che il di dl zanna costituisca un bavaglio perché tieni conto che alla fine il reato di diffamazione di ingiuria pre pre depenalizzazione c'è sempre stato io quello che ho sempre sostenuto è che per tutelare giustamente una diciamo così una categoria di soggetti si finisce per non tutelare anche tante altre categorie cioè io lo so che gli italiani sono esterofobi e quindi dire parlare negli stessi termini di un extracomunitario non non suscita la stessa indignazione che suscita parlare male di una persona di un orientamento sessuale differente invece io non sono esterofobo e quindi ritengo che ci dovrebbe essere lo stesso trattamento anche per le altre minoranze cioè il reato come hai spiegato tu la volta scorsa anzi fai tu il sunto del ddl zanna un'altra volta così perché l'abbiamo parlato tante volte è chiaro che ormai diciamo senza prendere posizione perché noi non prendiamo posizione sul punto ma è diventato una questione politica tra salvini e il resto delle forze delle forze politiche su questo non vogliamo entrare in merito personalmente mi mi auguro che il ddl zanna vada in porto a me sembra una tutela doverosa perché quello che sta succedendo nei confronti di persone che hanno orientamenti sessuali diversi o idee diverse anche a sfondo religioso eccetera raziale sono cose inaccettabili il ddl zanna non fa altro che andare ad ampliare il la portata di un articolo del codice penale che è già in presente che già punisce le terminate fatti specie le va ad allargare cioè il reato di istigazione a delinquere se non ricordo male 604 del codice penale adesso potrei sbagliare di qualche articolo già punisce la condotta di chi commette reati motivati sostanzialmente da odio raziale e il ddl zanna va ad incidere su questa norma allargando nella portata e punendo questo reato anche laddove le condotte siano determinate da questioni legate all'odio di genere oppure legate a differenti orientamenti religiosi e soprattutto a differenti orientamenti sessuali quindi va a tutelare in particolare ad aggravare la posizione di chi propaganda idee diciamo istica delinquere per motivi legati alla identità di genere e a motivi sostanzialmente sessuali insomma diciamo che così va ad allargare la tutela va a colmare un vuoto ecco l'esatto come a colmare un vuoto normativo per tutelare i gay le lesbiche i transessuali tutte quelle persone che vengono fatte oggetto di aggressioni motivate esclusivamente o di atti discriminatori motivati esclusivamente dal loro particolare orientamento sessuale perché allora molti sostengono il ddl zanna va ad imbavagliare ma perché comunque tieni conto che il diritto di una persona termina dove comincia il diritto di un altro quindi anche il reato di diffamazione è un bavaglio alla libertà di espressione ma è un bavaglio che si giustifica per tutelare un altrui diritto cioè se io vado a dire di una persona che è dell'amministratore di condominio che è un incompetente che è un farabutto io sto commettendo un reato che è quello di diffamazione uno mi potrà dire ma è un bavaglio alla libertà di espressione sì ci sono dei bavagli ad alcuni diritti che si giustificano perché si scontrano con i diritti altrui e il diritto in generale inteso come leggi dello stato è sempre un compromesso per cui una libertà deve fare i conti con la libertà altrui tu tieni conto che le nostre libertà sono come delle bolle in cui noi viviamo queste bolle si comprimono si espandono a seconda che ci siano vicino altre bolle immaginati una stanza piena di bolle no più bolle sono e più la bolla è piccola necessariamente quindi dobbiamo trovare un compromesso tutti quanti è chiaro dire a una persona che un che è un omosessuale che io detesto gli omosessuali è un problema che potrebbe essere degradante per la persona omosessuale tu dici però io sono libero di dirlo sì però tu stai offendendo anche la sensibilità di un'altra persona in tutto c'è un compromesso c'è chi sostiene che le libertà debbano essere ovviamente le proprie perché se si tratta di quelle altrui ci si guarda bene dal difenderle e quindi si sostiene che la propria libertà debba essere difesa a tutti i costi e c'è chi invece dice si vuole autolimitare per il bene degli altri questo è un discorso di carattere politico come giustamente ho l'impressione che siamo 696 che si è abbonato ho l'impressione che il problema della libertà di alla manifestazione di pensiero l'articolo della costituzione stia diventando per alcune forze politiche un alibi la classica scusa ma sì ma anche perché non vedo come non si possa e non si debba tutelare queste categorie che sono oggettivamente diventate categorie a rischio cioè ne vediamo di tutte colori di gente che viene presa a cazzotti picchiata però quello è già il reato in sé per sé si è chiaro un aggravamento ma ad estendi io sono assolutamente favorevole in ogni cosa che molto spesso oltre a leggere la chiave di lettura del politico bisogna anche andare a vedere qual è l'interpretazione che ne dà il giornalista perché molto spesso i titoli sono un po sensazionalistici giusto per catturare l'attenzione del lettore e poi conquistare appunto una maggior fetta di mercato bisogna poi andare concretamente a vedere il testo della norma e allora la ti renderai conto che al di là della presentazione del giornalista forse tutta questa tutto questo bavaglio non non lo trovi è certo che tu puoi manifestare la tua come si dice il tuo pensiero però devi essere benissimo devi essere anche educato accorto e nel nel esatto il ddl zan il ddl zan non è che ti obbliga a non parlare a non dire la tua puoi benissimo dire per me la famiglia è composta da un uomo e una donna questo non è che nessuno ti vieta di dirlo lo potrei continuare a dire anche dopo il ddl zan il ddl zan ti vieta invece di fare dell'istigazione contro gli omosessuali e dire gli omosessuali devono essere condannati a morte ecco un comportamento di questo tipo sarà punibile penalmente cosa che attualmente non lo è quindi non so se mi sono spiegato cioè se tu tu percepisci che questo è un bavaglio è chiaro che ci troveremo facilmente in un far west dove qualsiasi non lo so c'hai i capelli biondi se io domani dovessi dire tutti le persone che hanno i capelli biondi devono essere condannate a morte tu come ti sentiresti ti sentiresti discriminato no cioè quindi è una tutela che si dà ad una categoria sulla quale purtroppo storicamente la satira il cinema la stampa i fumetti i luoghi comuni sociali hanno giocato tantissimo tanto è vero che nelle famiglie sono state sono apparse tantissime testimonianze in questi giorni un figlio omosessuale era considerato una cosa da tenere nascosta da non dire mentre invece non ci sarebbe assolutamente non c'è assolutamente nulla di contrario all'etica e alla morale altre due domande che erano interessanti uno che cosa rischio se copio da un esame universitario mi sembra che sia un reato copiare da un esame universitario è un reato e per di più c'è una sentenza recente che sostiene che è anche violazione del diritto d'autore posso portare una mia esperienza personale? sì certo un attimo Dan Kamer aveva scritto se tiro uno schiaffo a una persona che cosa è reato dipende dall'entità dello schiaffo lo schiaffetto così cioè o compare così questa viene considerata ingiuria perché non crea lesioni l'ingiuria non è un reato quindi non commetti nulla se invece gli fai male è reato di lesione dai scusa o compare no è che tutti sei diciamo salvato all'ultima curva perché sembrava detto in meridionale compa o compa invece appunto compa c'era una domanda mi chiedeva un nostro amico di spiegare il principio di sossidiarietà penale e guarda è un argomento che porterebbe via almeno una mezz'oretta quindi diciamo non ti posso rispondere perché dovremmo parlare del concorso apparente di norme del concorso di reati del reato continuato sono istituti giuridici come dire del concorso presso una pubblica amministrazione dovremmo fare una puntata insomma portaria molto tempo diciamo quindi diciamo non ti rispondiamo veramente solo per esigenze di tempo possiamo dire in maniera veramente brevissima che la sossidiarietà cosa succede? a volte può accadere che uno stesso fatto sia in astratto riconducibile a più disposizione di legge e quella di maggiore ampiezza finisce con l'assorbire quella di minore ampiezza diciamo così ad esempio che so se uno viene accusato di furto poi potrebbe essere accusato di rapina la rapina assorbe il furto nel senso che contiene tutti gli elementi del reato di furto cioè la sottrazione della cosa mobile l'ingiusto profitto in più rispetto al furto ha l'elemento della violenza che viene posto in essere nei confronti della persona offesa quindi può accadere che un fatto assuma un disvalore maggiore e finisce per assorbire quello minore ma possono anche esservi delle ipotesi in cui in una stessa condotta con una stessa condotta vengono commessi più reati più violazioni della legge penale si pone quindi un problema di concorso formale di reati concorso apparente di norme c'è l'articolo 81 del codice penale che è una norma molto molto importante però ribadisco se apriamo il tema ci vuole un'ora allora altre due domande molto interessanti amministratore di condominio nominato senza requisiti che succede? il corso di formazione grazie Arturo grazie Arturo applausometro anche per te allora amministratore di condominio senza requisiti nomina nulla quindi la delibera è nulla e addirittura quindi non gli dovete neanche il consenso il compenso lo potete defenestrare defenestrare che non vuol dire buttare dalla finestra perché se no è la fine se non commettete un piccolissimo reato quello di omicidio ma al di là di questo la nomina è nulla e non gli dovete il compenso altra domanda cosa bisogna fare per difendersi dai call center aggressivi beh dipende da quanto è aggressiva la condotta perché non visti di tutti i tipi ce ne sono alcuni palesemente che danno notizie assolutamente false signora se non pagate domani arriva l'ufficiale giudiziario che vi pignora la casa un comportamento di questo tipo potrebbe integrare addirittura oltre ad essere contrario alla deontologia professionale perché impone di dire le cose veritiere potrebbe anche integrare un reato di minaccia perché tu stai minacciando di un fatto no però non è possibile minaccia no direi più sulla truffa potremmo scivolare minaccia no perché è un fatto che non dipende dalla tua volontà quindi non c'è la minaccia certo c'è lo stalking i call center sono una piega sociale c'è lo stalking ci sono state tantissime sentenze di stalking nei confronti dei call center aggressivi guarda come difendersi addirittura ci sono state pure delle ingiurie nei confronti che oggi non è più reato però la difesa migliore secondo me a mio parere è quello di registrare la telefonata dopodiché mandarla alla GCM che è l'autorità garanze della concorrenza e del mercato e presentare un esposto questa persona verrà probabilmente se non licenziata quantomeno le verrà applicata un procedimento disciplinare ZX Schionz XZ ci fa una domanda semplicissima rispondiamo al volo differenza tra giudice e magistrato il giudice è un magistrato quindi non c'è nessuna differenza se vogliamo fare una differenza nei magistrati la possiamo fare tra giudici e pubblici ministeri cioè tra magistratura giudicante e magistratura inquirente ma sono entrambi dei magistrati la differenza quando si parla di giudice è che appunto è il giudice inteso come soggetto che emette la decisione ma anche il pubblico ministero è un magistrato un cliente non paga l'ultima fattura per la realizzazione di un'app si può mettere offline l'app non c'è un contratto circa la paternità e no guarda allora qua ti parlo per esperienza personale perché ho difeso un cliente mi chiedeva appunto perché non era stato pagato allora nel momento in cui tu realizzi un'app a fronte di un pagamento di un prezzo si realizza una vendita quindi la vendita è un contratto che si perfeziona con il consenso cioè ci stringiamo la mano firmiamo il contratto la si vende io ti do un'app e tu mi dai i soldi ora se tu non mi paghi i soldi io danneggio la tua app sto commettendo un atto di danneggiamento quindi un reato quindi attenzione perché forse in questo caso rientra nella fattispecie depenalizzata però fatto sta che l'app non la puoi più danneggiare non la puoi più bloccare perché ormai è di proprietà altrui tu puoi mantenerti la paternità dell'opera diciamo puoi dichiararti essere l'autore ma lo sfruttamento dell'opera ormai lo hai ceduto quindi tutto ciò che puoi fare è un decreto ingiuttivo cioè rivolgerti a un giudice con la fattura e mettere un ordine di pagamento nei confronti del debitore anche perché in questo caso anche perché in questo caso non potresti neanche avvalerti della cosiddetta eccezione di inadempimento perché a fronte del mancato pagamento di un'unica rata bisogna calibrare bene l'eccezione di inadempimento tu l'eccezione di inadempimento cioè non ti pago perché non mi esegui la tua controprestazione la puoi fare quando però il rapporto è paritario nel momento in cui tu ci vieni a raccontare che comunque lui due o tre fatture te le ha già pagate e rimane solo un residuo non c'è quella corrispettività di gravità di inadempimenti quindi purtroppo non hai la possibilità appunto come diceva Angelo di eccepire la mancata esecuzione della prestazione due domande prima che ce le scordiamo Lucchetto ci scrive se cado a causa di una buca che cosa posso fare allora il problema della buca penso che sia capitato a tutti allora teoricamente c'è l'ipotesi del danno da cose in custodia 2051 se non sbaglio codice civile quindi si può agire nei confronti dell'ente proprietario della strada in questo caso il comune cosa succede nella pratica i comuni raramente pagano perché spesso sono in dissesto in predissesto aspetta un secondo c'è un aspetto molto molto importante perché questa è una cosa che fa accadere però una volta mi hanno pagato dopo 4 anni no ma prima ancora del pagamento cioè c'è un aspetto non è automatico non è automatico è chiaro l'insidia cosiddetta stradale deve essere un'insidia che può essere prevedibile ed evitabile il comune non necessariamente paga se ad esempio la buca si è formata un minuto prima tu ci passi e ci cadi il comune non ha responsabilità se invece quella buca è preesistente da tanto tempo magari ci sono state anche delle segnalazioni magari anche altri incidenti l'inerzia del comune non lo può esimere da responsabilità civile e anche penale perché se c'è una grande buca non segnalata non visibile perché non c'è l'illuminazione è notte un ragazzo passa in moto e muore cadendo o riporta lesioni gravi è chiaro che oltre al risarcimento in sede civile c'è anche il reato di omicidio colposo o lesioni colpose di cui risponderà il comune o l'ANAS e quindi il legale rappresentante perché la responsabilità penale è personale sì ci sono delle cose importanti da dire perché qua c'è ci sono due luoghi comuni molto importanti da sfadare il primo si dice sono caduti in una buca gigante enorme chi sa che il risarcimento mi spetta è proprio l'esatto contrario tanto più la buca è grande tanto meno è possibile il risarcimento perché il principio vuole che tu il principio della legge vuole che tu non guardi non cammini con la testa per aria cioè la buca deve essere un fattore imprevedibile cioè non lo devi poter vedere non lo devi poter avvertire perché se lo avverti se sei nella condizione di avvertirlo hai l'obbligo di attivare tutti i sistemi di allarme di prudenza che ti consentano di evitare il pericolo se ci cadi per colpa tua perché sei distratto è un problema tuo quindi la buca è in mezzo alla strada tanto più è grande tanto meno ti consente il risarcimento secondo aspetto chiave sul quale sbagliano anche gli avvocati credetemi perché ho trovato tantissime sentenze in cui cadono tutti gli avvocati è che non ti basta dimostrare che c'è una buca non ti basta dimostrare che sei caduto non ti basta dimostrare che ti sei fatto male ma devi dimostrare che sei caduto e che ti sei fatto male per colpa di quella buca ora perché dice il giudice io che ne so se sei caduto perché avevi i lacci slacciati o perché qualcuno ti ha spinto nel qual caso la colpa non è della buca ma di chi ti ha spinto quindi in buona sostanza per vincere queste cause a mezzo mettiamo che stai camminando ci vuole qualcuno che ti guardi in quel momento e che dica al giudice sì io l'ho visto mettere un piede in fallo e cadere se io ero nella macchina stavamo circolando sulla strada la strada sembrava sgombra e poi la macchina si è avvallata in una buca quindi ci vuole sempre una prova testimoniale senza la prova testimoniale non ottieni risarcimento e cosa importantissima ritornando al discorso dell'imprevedibilità si deve trattare di una buca che magari non è sotto casa tua perché se la buca è sotto casa tua dovendo tu usare l'ordinaria diligenza e conoscendo come sono i luoghi sotto casa tua difficilmente otterrai un indennizzo soprattutto se vai a dire quella buca era presente da due mesi chiaro perché deve essere non avvistabile il pericolo ed appunto imprevedibile quindi fate attenzione quando vi capita una cosa del genere esempi particolari possono essere questo per esempio un nostro amico ci dice se è di sera e non si vede chiaro se è di sera e non si vede tu hai diritto al risarcimento sempre che non si tratti della buca che è sotto casa tua un'altra ipotesi in cui facilmente ci capita di incorrere in un danno da insidia occulta è il caso della buca piena d'acqua durante un giorno di pioggia tu non sai se in quella pozzanghera c'è un normale avvallamento o c'è addirittura una buca di un dislivello di 5-6 cm che ti fa saltare il copertone e ti deforma il cerchione della cosa quindi in questo caso sicuramente se non c'è una segnalazione un cartello eccetera eccetera tu potrai andare a dire ah io non ci passo mai da quella zona e per me era un pericolo occulto ok altre due domande? si ho visto tre domande vado rapidamente vai tu allora una era se la prescrizione entra in gioco lo stesso pur quando le prove sono schiaccianti sostanzialmente la riassumo così sì anche se le prove sono schiaccianti se un reato è prescritto c'è poco da fare non è possibile assolutamente condannare per un reato per il quale è maturato il termine di prescrizione non ci può anche essere una confessione dell'imputato addirittura l'imputato può anche aver riconosciuto la sua responsabilità ma se il reato è prescritto non c'è nulla da fare c'era un'altra sui controllori degli autobus che chiedeva la nostra amica o il nostro amico non ricordo il nome diciamo sono diventati dei pubblici ufficiali possono trattenermi per chiedermi le generalità io più che pubblici ufficiali mi sa che sono degli incaricati di pubblico servizio ai fini penali diciamo non cambia molto però non cambia molto perché ho il pubblico ufficiale ho un incaricato di pubblico servizio se lo carichi di mazzate e chiaramente commetti il reato di violenza a pubblico ufficiale e la domanda era se potevano trattenermi mi è sfuggita purtroppo adesso se potevano trattenermi sicuramente ti possono chiedere le generalità trattenerti essendo un incaricato di pubblico servizio ritengo che non sia in grado però chiaramente non può trattenerti però se tu rimani in autobus ci sono sentenze interessanti dicono se tu rimani in autobus nonostante l'invito del controllore a scendere e fai blocchi così la corsa passi da una responsabilità amministrativa penale per interruzione nel pubblico servizio ci chiedeva Rocco se vedo un amicizio un amicidio non un'amicizia c'è una differenza e vengo chiamata a testimoniare e posso rifiutarmi nessuna persona chiamata a testimoniare può rifiutarsi di farlo gli unici soggetti che si possono rifiutare di testimoniare sono quelli che sono legati a una delle parti del processo sia civile che penale legati da vincolo di parentela o di stretta affinità quindi il coniuge il cognato il figlio il padre cacciate queste categorie nessuno può rifiutarsi di testimoniare sia se viene indicato e citato come testimone da un avvocato sia se venga citato da un pubblico come in istem citato ah è citato no no non è citato 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 non mi mette le parole a sponde sessuale che non ho detto ho detto citato è citato è citato dal giudice ha detto se viene citato dal giudice mi fai perdere il figlio si mi rendo conto che all'estate c'è insomma un po' di calore è un po' ma ho defocitato io per farlo adesso sono impegnato a casa di mia sua vediamo se possiamo concludere il concetto quindi nessuno può rifiutarsi di testimoniare chi si rifiuta viene accompagnato coattivamente cioè a calci dalla forza pubblica viene multato e se poi in aula si rifiuta ostinatamente di testimoniare commette il reato di falsa testimonianza falsa testimonianza che c'è sia se si dice il falso sia se ci si rifiuta di rispondere e quindi si è reticenti allora perdonate un attimo questo discorso che ha fatto Maurizio vale anche per il civile non necessariamente processo civile è un grande spazio dal civile al penale vabbè ragazzi ma io sono un altro livello andiamo io sono un altro livello andiamo andiamo fatela da sola la puntata comunque infantino tu hai detto che hai perso la causa per una buca stradale e forse in maniera come si dice giustificata sì è vero che tu hai portato il tuo come si chiama hai portato il tuo testimone però tu hai raccontato hai dato un elemento molto importante cioè tu sei stato multato per velocità velocità non adeguata evidentemente dal modo in cui sarà stata fatta una perizia sul tuo automezzo o sulla tua persona per o meglio sul tuo automezzo sicuramente per accertare che appunto avevi una condotta di guida un pochino veloce quindi non non prudente l'imprudenza è uno dei motivi per cui tu sei quantomeno corresponsabile del è pienamente logico del resto se tu vai a 100 all'ora non puoi vedere la buca è il danno è più grande se tu stai andando a 20 all'ora potresti anche non subire il danno potresti avvistare la buca potresti evitarla quindi non forse il tuo avvocato dovrebbe un attimino riflettere bene prima di impostare la misura o magari tu avresti dovuto dire al tuo avvocato che andavi un pochino o dovresti dirglielo poi dice Mattorelle non si può avvalere della facoltà di non rispondere il testimone assolutamente no quella riguarda l'imputato non il testimone il testimone però si può avvalere nella facoltà di dire non mi ricordo che poi è sostanzialmente la stessa cosa se il giudice lo interroga non è che uno è tenuto obbligatoriamente a ricordarsi chiaramente se poi era lì davanti e il giorno dopo magari un altro processo ha dichiarato la stessa cosa potrebbe essere imputato per falsa testimonianza però certamente ci si può ringraziamo l'amico brasiliano Stormiau c'era un altro amico Stormiau e Storbau me lo ricordo Paolo Aru ce ne ho due io tre ah tu riesci a leggere là per questo mi faccio le fotografie alla chat ah fai benissimo e Paolo Aru ci chiedeva se c'è in atto un reato lo posso filmare ecco esatto allora Angelo aiutami anche tu se non c'è il segreto istruttore l'importante è che non pubblichi è chiaro che tu puoi innanzitutto se è un fatto che avviene all'aperto tu lo puoi riprendere non puoi certo riprendere un fatto che avviene nella in un luogo di privata dimora poi è chiaro che bisogna anche distinguere se tu sei coinvolto in questa vicenda sei il diretto interessato allora tu puoi tranquillamente registrare un audio o girare un video e quindi assolutamente avvalerti poi di questo elemento di prova nel processo per cui sostanzialmente la mia risposta è diciamo sì si può si può firmare un reato nei limiti che abbiamo spiegato mentre Stormiau possiamo dirgli che lo scherzo del tè in spiaggia lo può fare tranquillamente no 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 non ho letto non ho letto praticamente no puoi fare tranquillamente il tuo scherzo non ti può querelare perché lui dice io ho visto una Candid in spiaggia gli fanno gli buttano del tè addosso dicendogli che Eurina mi può querelare veramente non c'è un reato non c'è un danno devi stare attento però magari a non farlo ogni giorno perché poi alla fine potrebbe pure risultare una sorta di sì ma quanta urina ha fatto una volta al giorno se la mette da parte se la mette da parte poi ma chi è che si conserva manco per le analisi ti mette di conservi comunque ciao Angelo è possibile che una multa sul bus venga pagata subito in contanti o addirittura al banco ma no un tempo si facevano adesso queste cose non è più possibile di solito c'è un bollettino da pagare la dashcam valgono come prova o serve una persona allora la dashcam dipende comunque se intendi processo civile o penale nel processo civile comunque è una prova atipica si definisce così perché il codice di procedura non la eminziona tra le prove questo vuol dire che è una riproduzione meccanica che fa prova nella misura in cui non viene contestata cioè nella misura in cui non ci sono elementi tali da far ritenere che questa prova non sia genuina per cui se il filmato si vede bene se è chiara anche la data no perché la dashcam non è che ti dice quando è stato fatto il filmato e quindi per determinati illeciti se c'è un termine entro cui far valere il proprio diritto e la dashcam non ti dice quando è stato commesso l'illecito uno potrebbe dire chi mi dice che non si tratta di un illecito di dieci anni fa ma vogliamo spiegare cos'è questa dashcam per esempio ai tuoi diciamo colleghi a voi due siete no 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 io lo conosco chiedo per un amico chiedo per un amico chiedo per un amico sono quelle telecamerine che vengono messe un po' cioè fissate un po' sono telecamerine portatili un po' come quelle che si mettono sul computer che possono essere attaccate o al vetro dell'auto addirittura sul casco degli skater dei bikers insomma dei motociclisti sono delle piccole telecamere che ti servono per vedere la strada per fare poi le riprese magari velocizzarle renderle molto più simpatiche da Knackgamer allora Andy 99 ci fa una domanda clamorosa se spara ad un morto è reato bella domanda bella domanda non è chiaramente amicidio perché è già morto però potrebbe essere vilipendio di cadavere ah ecco vedi opterei sì opterei per un vilipendio di cadavere quindi io non posso tagliargli un dito e mettermelo in forma al deide per souvenir non credo credo che andiamo sul vilipendio di cadavere neanche Lorena è una domanda che lascia perplessi Jenny 9819 a mio giudizio ti può chiaramente fare la mult ti può fare il verbale di contravvenzione però normalmente bisogna dare atto che i vigili prima di fare una contravvenzione un paio di fischiate le fanno però devi portare alla prova i cannoli no no qual è questa qua di Gennaro Genna 9819 nel caso dovessi essere premio in un parcheggio a pagamento non privato perché sto aspettando la mia ragazza che compra i cannoli è bellissimo l'aspetto perché c'è c'è la giustificazione è giusta causa è giusta causa dentro una macchina se passa il vigile può multarti certo che può multarti sì assolutamente cioè la sosta intesa in tutte le forme cioè non è anche col motore acceso se c'è un dirieto presente non presente insomma giusto ma voi avete visto questa scena che circola sul web di una donna imbavagliata in aereo che sarebbe stata le ha parlato qualcuno ah sì ho visto no non l'ho vista non ho capito che è successo il punto qual è è che sembrerebbe questa data in escandescenza adesso non ricordo chi come se qualcuno della chat ce lo ricorda ho visto velocemente poi chiaramente quando ti chiedono allora molto spesso chiedono all'avvocato avvocato che cosa ne pensa di questo e ti fanno vedere tre secondi cioè un avvocato per dare un parere come un medico non è che ti può dire se c'è una frattura se non ti fa la lastra non ti vede camminare non ti tocca insomma giudicare così un estratto senza sapere quello che c'è stato prima e senza quello che c'è stato dopo è un suicidio professionale quindi è difficile stabilire poi addirittura uno si era si era fatto un fake clamoroso aveva ripreso dei poliziotti che applaudivano a una una manifestazione ha detto ecco anche i poliziotti applaudono contro i manifestanti a favore dei manifestanti contro il Green Pass vai a vedere però era un filmato vecchio di almeno 5-6 anni perché si vedeva da alcune da alcuni elementi quindi è chiaro che molti video vengono poi strumentalizzati nessuno ci può dire quali sono effettivamente le condizioni reali Stormy A possono fare la multa come è fra me e lui ok ok un altro problema ancora che si sta ponendo in questo periodo è sulla legittimità del Green Pass tutti quanti dicono ma è legittimo è costituzionale non è costituzionale quindi poi la solita tesi il Green Pass non è costituzionale ragazzi allora io vi invito a leggere l'articolo 16 mi sembra che è sulla sulla libertà di movimento leggiamolo tutti quanti perché così vi faccio leggere perché la gente sente ripete e poi andatevela a leggere la Costituzione no? perché se ve la leggete se ve la leggete ah sì sì sicuramente puoi nominare tuo figlio in amministrazione o meglio portare la candidatura di tuo figlio se il preventivo è buono se tuo figlio ha le le capacità professionali ha seguito il corso sicuramente è verosimile che non ti faranno votare per conflitto di interesse che possa essere allora io voglio leggere davanti a tutti quanti voi in modo tale che se qualcuno vi dice ma il Green Pass è costituzionale o no uno può dire se è favorevole o non favorevole però non deve dire corbellerie no? ci sta che uno dica per me è una forma surrettizia per imporre la vaccinazione per me invece è legittimo perché viene prima la tutela della salute della nazione ci possono essere varie posizioni però andare a dire una fesseria è da ignorare allora non ci sto non ci sto cioè io sono per la libertà di pensiero ma il pensiero deve essere motivato sulla prima devi capire che cosa dice una norma e non sentire allora perché dite che il Green Pass è incostituzionale perché? perché dicono tutti quanti perché la Costituzione dice che ti puoi ma ti puoi liberamente muovere avete letto l'articolo 16 chi se lo ricorda da memoria ve lo ricordo io ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale basta? no ragazzi c'è una seconda parte dell'articolo 16 che ovviamente non vi dicono salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza quindi la Costituzione prevede che la legge e con legge si intende legge decreto legge o decreto legislativo come sono quelli dell'ultimo governo e quelli dell'ultimo governo Conte che hanno limitato la libertà quindi non è corretto dire che il Green Pass è incostituzionale la Costituzione consente lo prevede la Costituzione che la libertà di movimento possa essere limitata per la tutela della salute poi entriamo in tutti i discorsi che volete che secondo voi il virus non esiste che è la salute del sì che è la salute di cinque di quanti sono i morti adesso in Italia 200 mila 150 mila che c'è la morte di 150 mila persone può essere un affaruccio da poco rispetto all'economia nazionale entriamo nell'opinione ma non diciamo fesserie non è incostituzionale lo prevede la Costituzione allora io vorrevo dirti una cosa che proprio in tema di multe per mancato pagamento del biglietto autobus si è abbonato a Ieje TV a Ieje vabbè allora noi rimandiamo sempre a Ieje Brazzo al capolavoro tre uomini e una gamba grazie a Ieje allora biglietto amaro ricordo biglietto amaro come si chiama quello che Angelo ha sottolineato una cosa molto importante salvo le disposizioni previste dalla legge quindi dalla legge ordinaria non da una legge di rango costituzionale che è per essere approvata bisogno del rimpallo una legge o del Parlamento o del Governo e attenzione perché poi se ti vai a leggere i manuali di diritto costituzionale perché me li sono andati a rivedere che non si può ricordare tutte a memoria è una riserva di legge non assoluta è una riserva di legge relativa quella dell'articolo 16 che significa che è una riserva di legge relativa che dice che la legge può fissare i principi quadro e poi a sua volta demandare il compito di integrare la normativa a un DPCM o un decreto ministeriale quindi vuol dire che non è soltanto la legge che può prevedere queste limitazioni la legge può prevedere soltanto la cornice e poi delegare al Presidente del Consiglio dei Ministri le singole condotte quindi ragazzi che mi arriva pinco pallo che mi dice è incostituzionale non sa la differenza tra riserva di legge riserva assoluta e riserva relativa no non ci sto non ci sto se me lo viene e me lo viene a dire un costituzionalista o uno comunque che sta che significa allora ne parliamo allora possiamo entrare nella dialettica ma se no no se no è un sentito dire informatevi leggetevi che vuol dire incostituzionale che vuol dire incostituzionale che una norma viola la Costituzione ma se la Costituzione a prevederlo non viola la Costituzione giusto no no perché davvero ci sta diventando una storia un po' pesantuccia poi è vero cioè questo oggi addirittura ecco la novità se volete una news è che Letta e Renzi si sono dichiarati favorevoli al vaccino per tutti gli under 40 quindi tutti i ragazzi secondo Letta e Renzi dovrebbero vaccinarsi quindi obbligatoriamente quindi vorrebbero porlo obbligatorio vi ricordo che in Italia ci sono dei vaccini obbligatori ma la violazione non implica una sanzione non implica un reato cioè semplicemente l'impossibilità di iscriversi a determinate scuole quindi abbiamo già delle norme che prevedono l'obbligo di vaccinazione non sarebbe una novità completa insomma e tenete conto che ci sono tanti altri stati già come ad esempio la Francia che si sta dimostrando in questo momento tra le più restrittive perché temono di dover chiudere di nuovo tutto cosa che uno non ci sarebbero i fondi dell'Europa più a proteggerci due una ribellione del popolo sarebbe quasi scontata se dovesse esserci un nuovo lockdown dice guardate siccome qui una rivolta popolare nessuno la vuole vaccinatevi statevi zitti almeno e quindi questo green pass è un modo indiretto sul rettizio è chiaro molto molto semplice a capire non ti vuoi vaccinare sei libero di farlo rimarrai sostanzialmente isolato isolato questo è Mirto 555 ci scrive ci chiede quando una rapina in abitazione è definita aggravata una rapina in abitazione è sempre aggravata perché l'articolo 628 al secondo comma prevede una serie di circostanze aggravanti del reatto di rapina che fanno balzare in alto i limiti di pena e tra questi c'è proprio l'aver commesso il reatto di rapina all'interno di un'abitazione quindi è un automatismo abitazione privata rapina aggravata così come lo è restando Angelo a questo triste fatto di cronaca che è successo in Puglia l'equile mi sembra dove un funzionario un ex funzionario di banca è stato ucciso da un rapinatore mentre stava prelevando al bancomat uno dei casi di rapina aggravata qui poi c'è scappato anche un omicidio quindi figuriamoci è proprio quello di chi commette il reato nel momento in cui un soggetto sta per usufruire dei servizi bancomat perché tornando a DL Zanni il legislatore che fa ci sono degli allarmi dei campanelli di allarme va ad intervenire e ad integrare e a punire più severamente quindi la risposta è sempre aggravata la rapina a casa altra domanda è entrata in discoteca scontata gratuita alle donne e in regola far pagare sì questa storia la sento molto spesso perché le donne non pagano è costituzionale di no ormai qualsiasi cosa è costituzionale è tutto costituzionale è tutto così io sono il gestore del locale posso fare quello che voglio posso far entrare però vedi qua la posta male la domanda secondo me perché doveva fare è costituzionalmente legittimo far pagare il maschio se la donna entra gratuitamente già così secondo me la poni in maniera diversa in verità è la verità è questa è che il maschio paga per tutti e due cioè sostanzialmente è lui che sta pagando sì ma io sogno sogno un mondo migliore nel quale noi maschi saremo pagati sotto tutti gli aspetti presi a casa portati a cena e le donne pagheranno tutto io sogno un mondo migliore ma ci sono dei popoli sogno un mondo migliore ed è giusto così secondo me perché bisogna un attimino questo mondo perché siamo noi che contribuiamo a questa forma di discriminazione quando ci fa comodo e invece poi la recriminiamo e allora io vi dico comprami io sono ma se l'emicidio è involontario durante la rapina cosa cambia a livello di pena allora tenete conto che durante sta parlando sempre della rapina in abitazione beh allora guarda che durante la c'è la difesa domiciliare la legittima difesa domiciliare che è una particolare forma di legittima difesa tu quando usi diciamo una difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa ci deve essere un pericolo grave e imminente di una minaccia seria voglio dire alla tua integrità fisica o alla persona che ti sta ti sta accanto allora lì puoi intervenire la legittima difesa quando sei e quindi c'è una valutazione di proporzione tra la tua reazione e il pericolo imminente però credo che lui si riferisse all'ipotesi del rapinatore che uccide non della vittima che uccide Adri e Bacapo ringraziamoli perché se no per come la fate voi Roberta Pitbull una vessata sarà poverina ti posso conoscere ti vorrei conoscere Roberta sono con te ti sono vicino Roberta stavo dicendo credo che la domanda fosse se il rapinatore uscite non il rapinato credo quindi non era un problema di legittima difesa ma è lì c'è un concorso di reati e quindi il soggetto piglia l'ergastolo proprio detta proprio in termini spiccioli non so io almeno l'ho interpretata così la domanda ora è sfuggita ma non credo giusto per completare il discorso allora comunque parliamo ma parliamo nello stesso che è sempre sempre utile però è sempre un cavallo di battaglia quando tu arriva il ladro in casa allora là la legittima difesa si presume sempre proporzionata lo stato di ansia di timore che ti viene nel vedere il turbamento emotivo il turbamento emotivo che ti viene nel vedere qualcuno che sta per entrare in casa o addirittura che è già entrato ti consente di prendere un coltello e anche ucciderlo perché in quel momento diciamo si presume c'è una presunzione a tuo favore che la tua condotta è proporzionale all'offesa chiaramente se poi dovesse risultare che il ladro era disarmato ed era una cosa facilmente visibile perché c'era la luce oppure che addirittura se ne stava già andando che lo ha inseguito per tre chilometri o addirittura ti sei affacciato dalla finestra l'hai sparato mentre già era al cancello soltanto per tenerti il Rolex che si è rubato purtroppo non è più legittima difesa perché non ti stai difendendo stai difendendo il tuo patrimonio e questo non ti consente di ammazzare una persona quindi ci deve essere una proporzione tra beni la famosa costituzione dice che è la famosa costituzione Dei Mario 83 conviene fare una causa per truffa se la causa costa di più della somma persa e questo ti volevo chiedere secondo te vale la pena fare una causa per truffa se la somma da recuperare è in allora la domanda è una domanda strana che mi hai fatto allora io la domanda costituzionalmente bisogna dire che sei tutelato siamo tutelati allora io direi che allora se sei sicuro di vincere la causa è il soggetto che ti ha truffato è un soggetto aggredibile lo puoi tranquillamente fare la causa aggredibile dal punto di vista economico patrimoniale nel senso che sei sicuro che riesci a chiaro che se ti ha truffato un nullatenente che non puoi recuperare nessun soldo fare la causa non ti conviene però se sei sicuro di vincerla o hai buone probabilità di vincerla sei sicuro di recuperare i soldi anche se l'importo della truffa faccio un esempio 500 euro tu ne spendi 1.500 di avvocato però il soggetto che perde il giudizio viene condannato anche alle spese legali per cui tu recupereresti tutto le spese legali non le pagano chi perde beh in teoria ma in pratica non è sempre detto intanto te le devi anticipare tu e solo alla fine del giudizio poi eventualmente il giudice decreta o meglio sentenzia che le spese siano a carico della parte soccombente la legge prevede poi una serie di eccezioni alcune possono essere giusti motivi che il giudice tra l'altro non è codificato dice quando c'è il giudice può compensare le spese cioè ognuno si paga le sue spese quando c'è un contrasto in giurisprudenza quando si tratta di cose nuove di un principio nuovo oppure quando c'è stato un cambiamento di interpretazione da parte dell'over rule della Cassazione però per come l'ha posta lui quindi parlando di truffa essendoci un processo penale nel processo penale diversamente che da quello civile se l'imputato è condannato in sede penale per riato di truffa viene sempre condannato al risarcimento del danno e alle spese legali sostenute dalla parte civile quindi nel processo penale nel civile ha già detto tutto Angelo nel penale c'è questa certezza in più se l'imputato è condannato penalmente c'è la parte civile viene sempre condannato a pagare le spese legali non c'è la compensazione tipicamente civile il problema della condanna alle spese è che molto spesso i giudici quando ti accordano il favore delle spese processuali non sempre sono come si può dire diciamo si ligi nell'applicare la tariffa forense e quindi molto spesso il tuo avvocato ha diritto ad essere pagato ma non nella misura in cui avrebbe diritto secondo le tariffe forense vigenti di solito è sempre un po' inferiore la liquidazione del giudice in buona sostanza l'avvocato ti può chiedere pure di più l'integrazione però ricordatevi che l'avvocato all'inizio del conferimento dell'incarico vi deve dare un preventivo e il preventivo deve essere iscritto quindi concordate prima ricordatevi farvelo mettere per iscritto però purtroppo se si dimentica di mettervelo per iscritto non è questa una buona ragione per non pagarlo quindi lo dico a vantaggio dalla categoria però fatevi furbi anche Gasoil che dice? Pedro 1985 allora qua sono un esperto perché ho un mio cliente che purtroppo ha questo problema quindi periodicamente ogni sei mesi vengono i carabinieri perché sequestrano le sue piantine allora i carabinieri sono comunque autorizzati ad entrare perché hanno il diritto di perquisire perché se tu hai diciamo della droga in casa anche se ne fai un uso personale non basta esibire una ricetta perché devono comunque i carabinieri entrare e controllare perché se tu fai uso di cannabis terapeutica e c'hai a casa 20 kg di cannabis non c'è ricetta che tenga è chiaro che lo stupefacente è destinato allo spaccio per cui i carabinieri possono entrare possono perquisire possono sequestrare poi si vedrà se subirai o meno un processo penale ma i carabinieri possono tranquillamente entrare e perquisire anche perché assieme alla cannabis tu potresti essere custode anche di altra sostanza in linea astrettamente teorica pure pratica secondo me una volta che c'è scusa a serra giustamente buongiorno avvocati un quesito per voi è andata troppo avanti auto in garanzia per un anno settembre 2020 oggi ho avuto un problema motore allo stesso è da buttare oppure auto settembre 2020 è per la riparazione su 3.000 euro di valore se è ancora in garanzia la puoi far valere la garanzia assolutamente la garanzia ti dà la possibilità a di chiedere la sostituzione con un'auto uguale o b di farla riparare a spese del venditore a questo punto fatela sostituire se non ce ne sono altre hai diritto alla restituzione dei soldi quali passi da fare la prima cosa è la denuncia entro 8 giorni dal momento in cui tu ti sei resa conto del difetto del vizio e poi dovresti agire entro un anno no no se sei consumatore entro 60 giorni cioè se l'hai comprata giusto giusto scusami se l'hai comprata cioè non per il tuo lavoro hai 60 giorni di tempo da quando hai devi andarla a dire al venditore se poi il venditore lo ha ammesso chiaramente ti consigliamo di farlo con raccomandata a meno che il venditore non lo ha ammesso ad esempio non se l'è presa in consegna ti ha lasciato un foglio quella missione vale come prova della denuncia del vizio e non hai bisogno neanche più di farla quindi in quel caso ti consentirà di far valere la tua garanzia e c'hai due anni di tempo quindi il semplice fatto che tu l'hai chiesto hai interrotto diciamo il termine e quindi sei in condizione di far valere il tuo diritto se il venditore non dovesse fare quello che tu chiedi quello che puoi fare eventualmente è citarlo dinanzi a un organismo di mediazione anche se non è obbligatorio perché sei in veste di consumatore e per i consumatori non vale l'obbligo di mediazione però ti consiglio di farlo ugualmente perché ti eviti la causa e col costo di 40 euro l'organismo di mediazione lo chiama gli dice senti c'è posta per te lo fa venire vi dovete incontrare necessariamente possibilmente con gli avvocati ma ripeto non è obbligatorio perché c'è una situazione di conflitto tra un consumatore e un professionista e dopodiché si tenterà un accordo se l'accordo si raggiunge allora pagate una percentuale al mediatore e questo accordo vale come una sentenza se non si raggiunge puoi fare la causa il vantaggio di questo meccanismo è che è molto veloce perché tutto si deve concludere entro 90 giorni mentre una causa se ti va bene ci vogliono 3-4 anni in secondo luogo paghi molto molto di meno rispetto a una causa ti ripeto non è necessario l'avvocato però secondo me è meglio averlo ora non è che voglio assolutamente non voglio tirare acqua al mulino della categoria perché anzi lo sapete che io faccio tutte queste cose per informarvi sui vostri diritti a prescindere dall'avvocato però ci sono determinate situazioni molto delicate in cui è meglio l'avvocato sarà però un consiglio perché conosco la categoria molto bene che tu chiarisca in anticipo il compenso che gli devi dare perché se no è capace che ti spinge a non accettare pur di fare la causa e guadagnare sulla causa quindi tu anticipagli soltanto magari digli non ho intenzione di fare causa fatti dire quanto sarà il suo onorario per partecipare in modo tale che sarà tutto il suo scopo farti raggiungere l'accordo in quello l'ultima risposta a Mirto 5555 che chiaramente è molto attivo sei in bavaglio durante una rapina una persona e poi questa muore cosa rischio cosa non rischio allora la questione è il cosiddetto c'è l'articolo 83 del codice penale 83 cosiddetto aberrazio delicti cioè se io durante un'azione criminosa finisco per commettere per errore nell'esecuzione dei mezzi del reato un altro reato questa norma prevede la punibilità anche per questo reato come dire involontariamente commesso che però vieni punito solo se questo reato è punito a titolo di colpa quindi in questo caso ci sarebbero l'omicidio colposo o le lesioni colpose però il tuo caso è un po' particolare perché per il reato di omicidio bisogna anche considerare che vi è l'omicidio preterintenzionale per cui secondo me in un caso simile oltre alla rapina potresti essere condannato anche per omicidio preterintenzionale piuttosto che per un omicidio colposo commesso per un errore nell'esecuzione del reato perché il soffocare una persona legarla imbavagliarla è comunque una manomissione dell'altrui persona che può portare ad un'impotazione per omicidio preterintenzionale piuttosto che colposo è una questione giuridica molto sottile però diciamo la norma è questa sì dunque io suggerirei invece ai moderatori della chat che ci sentono di riliberare la chat perché abbiamo altri dieci minuti tu te ne devi andare io devo scappare perché ho un'udienza su Teams sono già in ritardo di un minuto quindi mi sta aspettando un giudice ho risposto abbastanza però ho risposto abbastanza non fate più domande di penale io vado via caccio il microfono vi saluto tutti quindi ci vediamo o non ci vediamo mercoledì ci vediamo mercoledì alle 4 e mezza con te e con tutti gli altri noi facciamo altre altre allora io mi porto avanti questa è la legge ci portiamo avanti qualche altra domanda in modo tale che poi come dicevo ecco abbiamo detto all'inizio della puntata avremo un luglio e un agosto un po' diversi non cambia il format ma cambia per noi soltanto le necessità di doverci spostare con le relative famiglie in zone della costa dove non sempre la connessione è puntuale anzi diciamo che non arriva proprio quindi è un po' complicato spostarsi quindi dalla prossima settimana cercheremo di fare una puntata più lunga in modo tale da garantire pure a Twitch l'arco della puntata sarà una puntata un po' sui generis quindi non vi preoccupate non è che cambiamo il format è soltanto per l'occasione non avremo sigla non avremo il regista avremo soltanto un computer cercheremo di rispondere alle vostre domande vi terremo compagnia un poco pure con un abbigliamento ancora più informale verosimilmente addirittura a torso nudo però ragazzi perdonateci a settembre ritorneremo più professionali di prima io da grande voglio diventare come Angelo anche io volevo diventarlo ma una volta che ci sono diventato me ne sono pentito amaramente allora per quanto riguarda il consiglio che ha dato Angelo sul rivolgersi ad un avvocato per farsi assistere un altro suggerimento che mi sento di dare è questo molto spesso avete la necessità di denunciare un fatto all'audità di pubblica sicurezza quindi magari al carabiniero o alla polizia anche in quel caso quando ritenete di dover predisporre una denuncia querela fatevi assistere possibilmente da un penalista perché l'impostazione che il penalista dà alla querela è un viatico molto importante innanzitutto per ottenere dalla procura della Repubblica gli avvisi in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero perché molto spesso uno va espone il suo fatto al comandante della stazione dei carabinieri di turno e magari trascura di farsi avvisare quindi di invocare l'articolo 408 se non sbaglio del codice di procedura penale ma inoltre l'avvocato è in grado di predisporre di predisporre una sorta di impalcatura vera e propria che conduce poi il pubblico ministero a sicuramente far scattare l'azione penale e questo ripeto non è una lancia spessata a favore della categoria è un consiglio che vi diamo per la più efficace tutela dei vostri diritti se vendo una cosa ragazzi sono arrivati una serie alla liberazione della questa interessa se vendo un oggetto di mia proprietà per più di 5.000 5.000 perdonami Angelo si vai 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 allora per quanto riguarda quella famosa app di cui non è stata pagata l'ultima tranche come abbiamo detto prima non puoi manometterla eccetera eccetera però se ci sono delle chiavi di accesso a mio giudizio puoi sicuramente negare la consegna delle chiavi di accesso penso si patratti di un di un codice PIN per consentire appunto in questo caso un valido esercizio della come si dice dell'azione della eccezione di inadempimento allora se vendo un oggetto di mia proprietà per più di 5.000 euro devo pagare qualche tasse allora in teoria in linea generale non si pagano tasse sugli oggetti di seconda mano a meno che non ci fai un lucro nel senso che l'hai pagato 4.000 lo rivendi a 5.000 in questo caso hai fatto un lucro quindi hai un lucro di 1.000 euro paghi le tasse su 1.000 euro siccome è inverosimile a meno che non si tratta di oggetti che si sono rivalutati nel tempo come il mobilio o i quadri è inverosimile che un oggetto usato valga di più di quello nuovo allora in questo caso al di là della somma può essere anche 200.000 euro non ci pagherai le tasse se ad esempio tu hai una casa che paghi 300.000 euro e la rivendi a 300.000 euro non ci paghi le tasse se la rivendi a 290.000 euro non ci paghi le tasse quindi non è tanto la misura delle tasse che scusami dell'importo che vai a rilevare ma la differenza rispetto all'acquisto in cosa consiste il reato di stalking giudiziario intanto non è un reato è un semplice illecito civile consiste nel fatto di intentare più azioni giudiziarie nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto frammentando il tuo diritto facciamo il caso che tu hai emesso 5 fatture per una persona anziché fargli una causa per la somma di queste 5 fatture gli fai 5 cause in modo tale che lui dovrà pagare 5 volte la parcella diversa all'avvocato allora un comportamento di questo tipo viene definito abuso di diritto e quindi da un lato anche abuso del processo abuso del processo e da un lato da all'avvocato al tuo avvocato la possibilità di chiedere una sola parcella nei tuoi riguardi ma addirittura c'è una sanzione disciplinare anche per il tuo avvocato non è un reato e ripeto è un semplice illecito civile vorrebbe dire che tu perdi la possibilità anche di ottenere le spese legali vuol dire che dovrai pagarti da solo le spese giudiziarie insomma non ha senso è un comportamento privo di senso Angelo secondo te che cosa significa è legale non affittare una casa a chi ha partita IVA non capisco bene la domanda però ti posso dire una cosa che poiché se nel contratto di locazione non è dato individuare un obbligo a contrarre io posso legittimamente rifiutarmi di affittare la casa ad Angelo piuttosto che a Maurizio non c'è un obbligo decidere anche di lasciare la spitta e pagare senza alcun ritorno il l'Imu esatto beh Gianluca non mi dire che non lasciamo eh sì direi proprio di sì tanto ci abbiamo mercoledì vai fai una barzelletta c'hai una barzelletta c'ho solo barzelletta sconce sconce non si può non si può quella famosissima del monopattino per esempio un giorno la racconterò un giorno quando chiuderemo la telecamera beh in effetti ripensandoci bene quella del monopattino non è sozza ah ok però magari forse è un po' troppo un po' troppo lunga no è un po' troppo lunga vabbè allora dai ma è bellissima voglio la racconta a lui vi darai l'ok posso mandare un messaggio su whatsapp a un numero trovato online o è violazione della privacy è violazione della privacy che fare cartello passo carrabile abusivo e la municipale non interviene fai una segnalazione alla polizia comunque municipale perché è ugualmente una sanzione è un illecito amministrativo e tu puoi fare una comunicazione eventualmente anche al sindaco e scusa nostro bicipite nostro bicipite Rocco verrà a steccato di culto di culto bene ragazzi amici miei abbiamo fatto 10 minuti io voglio rimanere ragazzi è lui che sta premendo va bene intanto abbiamo un'altra giornata mercoledì mi raccomando perdonateci per fine luglio saremo un poco meno attivi del solito ma vi garantiremo ugualmente la trasmissione e se avete problemi ricordatevi che questa è la legge grazie infantino grazie mirto un abbraccio ciao alla prossima ciao questa è la legge è la legge